La partita del Penso inizia all'insegna del torpore primaverire, sonnecchiano Lopez e Pantanelli al settimo e dorme Suazzo puntualmente fermato da Maldonado. Bene Zola ed Esposito invece saranno loro gli autori degli assist. Il Cagliari prova a costruire ma non arriva mai alla conclusione, il primo tiro è quello troppo alto di Modesto al 31esimo, poi Eppoggi il più pericoloso dei Veneti è insidiare di sinistro Pantanelli. Una punizione assegnata al Venezio al 37esimo fa uscire dai gangheri Reia e Morganti lo punisce con l'espulsione. Il contraccolpo in campo non c'è, anzi il Cagliari passa in vantaggio con l'azione più bella della gara. Si accende Esposito sulla fascia destra, mette il pallone al centro dell'area, Suazzo fa velo per Albino che di destro realizza l'1-0. La replica di Biancolino di testa al 45esimo non è all'altezza dell'occasione rosso-blu. Nel secondo tempo il Cagliari sembra fatto di un'altra pasta, più incisivo, più veloce. Passa appena un minuto e Soviero deve bloccare sulla linea la conclusione aerea di Lopez. Al quinto Zola serve Esposito con un cross molto teso, ma l'attaccante napoletano non trova la coordinazione giusta. Il rosso-blu continuano a premere, al 18esimo raccolgono nuovi frutti. Questa volta Morganti e Spellebrellier per doppia munizione. In entrambi i casi era stato Suazzo a subire i falli. Altro cartellino per Poggi, punito per simulazione in questo contrasto dubbio in area con Modesto. La gara sembra incanalata sui binari giusti. Albino potrebbe addirittura emularsi al 36esimo, ma fallisce il raddoppio. Lo trova invece Bianchi, pescato, smarcato sotto porta da una magia di Zola. Potrebbe essere il gol che chiude la partita e invece la riapre, perché il Cagliari si abbandona a un inspiegabile relax e Poggi può accorciare le distanze a un minuto dalla fine. I quattro di recupero sono di vera angoscia per i rosso-blu, che riescono a respingere ogni assalto. Non vincere sarebbe stato fatale per la classifica. La squadra di Reia invece è ancora al sesto posto, ma in solitudine, avendo staccato la Fiorentina sconfitta oggi a Genova e la seconda piazza ora è a soli tre punti.